Sera amici e bentornati sul canale. Oggi volevo portarvi un'altra collezione di Pikachu di Zenit Regale. Sperando che sia una bella gonfia come collezione, perché per il prezzo che ha non conviene assolutamente comprarla. Infatti se proprio volete avere la collezione di Pikachu in collezione, o se avete la smania di trovarvi le promo da soli senza comprarle singolarmente sfuse, vi sconsiglio di aprire queste collezioni, perché per quello che costano vi conviene andare sulle mini-teens, semplicissime, o piuttosto magari le teen, che sono belle, che hanno le promo degli uccelli leggendari. Questa è tenuta benissima, ben centrata. O comunque, meglio ancora, le TB. Comunque di controllare bene il rapporto qualità-quantità-prezzo. Perché appunto, questa collezione è costosa, e all'interno solo 5 pacchettine. Comunque, magari sono pure buoni, chi lo sa, andiamo a vederlo. Tricchettino da 4. Energia. Aspiratore perduto. Megaball. Soldrock. Shitter. Riolu. Yungos. Kerubi. Starly. Starly reverse. E un Zacian viastro. Bello. Bello. Primo pacchetto, primo pull. Che bello che è da dire. Primo pacchetto, primo pull. Fa ben sperare anche su tutti gli altri. E andiamo. Codicino. Energia. Trolley. Dai, di salvataggio. Girafarighe. Pinkurig. Baltoi. Mert. De Galar. Wildmer. Shinx. Corpish. Qua abbiamo un doppio pull. Perché ho visto l'ultima carta. Comfey. GG 14. Questa mi manca. E dietro? Un Simiter viastro. Mi manca anche questa. Doppio pull. Molto apprezzato di carte che mi mancano. Tutte e due perfettamente centrate e condizioni impeccabili. Quindi, buono. Due pacchetti e tre pull. Il Zacian non mi ricordo se l'avevo trovato. Faccio confusione con il Zamazenta. Non mi ricordo se ce l'ho o se mi manca. Comunque uno dei due ce l'ho. Anche doppio. L'altro mi manca. Speriamo sia quello che mi manca giustamente. Così, un'altra carta spuntata dalla collezione. E andiamo. Energia. Girafarig. Scambio di energia. Ultraball. Cherubi. Execute. Recupero di energia. Emolga. Ludwish. GG 41. Wow! Un bellissimo Raikou V! Guardate che spettacolo questa carta, ragazzi. E sotto abbiamo... Sotto abbiamo un Charizard di astro. Tenuto benissimo. Ben centrato. Ottime condizioni. Questo lo scambio con quello che avevo trovato l'altra volta che era meno centrato. E questo Raikou, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. È il primo dei tre cani leggendari che ho trovato. Questo. Mi manca gli altri due e sono proprio ansioso di trovarli tutti. Comunque, che dire? Eh, ho partito tre pacchetti e ho già trovato cinque pool. Questa collezione è stata tanta roba, ragazzi. Per ora mi sta proprio soddisfando molto, molto, eh. E ricordo che mancano ancora due pacchetti. Che probabilmente saranno vuoti. Però, chi lo sa? Siamo così fortunati perché fermarci qua. Forse c'è qualcos'altro, eh. Andiamo. Amici di Sinnoh. Bloom. Megabol. Aaron. Riolu. Starley. Shitter. Emolga. Oh, bellissimo Svablu. Che mi mancava anche questo. GG27. E sotto abbiamo un Upsul. Olo. Che mi mancava anche questo. Spettacolo. Questa collezione è... Sì, sì. È stata proprio... Molto buona. Poi, oh, non so dirvi il valore. Non è che sto a guardare ogni carta quanto vale, ma... Anche se non avessi rifatto il valore della collezione, sono estremamente soddisfatto di aver trovato carte non doppie. E comunque carte è... Molto belle. Perché sono tutte con degli artwork bellissimi. Specialmente il Raikou. Ma anche lo Svablu è qualcosa di spettacolare. E oltretutto vanno in quadernetto. Ah, ho visto adesso che c'è un po' di print line. Un bel po'. C'ha uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette righe. Se si vedono. Eh, non tanto nel video. Però vabbè, ci sono. Seal. Pozione. Corpish. Aaron. E un Pikachu quadernetto. Questo è già il terzo che trovo. Ne ho da vendere, quanti ne volete. Però ragazzi, guardate qua che spettacolare pull che mi è uscito da questa collezione di Pikachu di Max. Bene, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e un commentino. Aiutatemi a crescere, commentate, condividete il video. Massimo supporto. Ne sono grato. Grazie del tempo. Grazie di tutto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie.